Ciao, creatura, io sono Ectesplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai Asma. Ciao, questa sera finalmente ti porto il video dei miei regali di compleanno che non sono stati tanti ma come ogni anno pochi ma buoni, quindi ti mostro subito quello che mi è stato regalato su Instagram. C'è stato qualche spoiler perché appunto quelli che mi hanno inviato, le mie creature che mi vogliono più bene dalla lista Amazon, quei pacchetti li ho aperti direttamente nella storia di Instagram. Se ancora non mi segui mi trovi con il nome Ectesplendente, lì abbiamo creato anche una lista di amici stretti dove si parla di cose un po' più personali. Ma ovviamente sono per pochi quelli più interessati perché io non voglio essere pesante e rompere le palle a nessuno, quindi solitamente Instagram è molto più leggero, invece per la lista amici stretti è un po' più intrusivo, ecco, diciamo così. Comunque andiamo con un ordine sparso così è più frizzante. Una mia collega mi ha regalato questa tisana dell'angelica gusto che devo ancora provare, cacao cocco e caramello che in realtà vorrei più acquistare e se vorrei più assaggiare con il latte che con l'acqua perché secondo me con l'acqua non sa di nulla. Però in realtà le proverò in entrambi, con entrambi sia con l'acqua e con il latte, ma credo che sia molto più gustosa, che sarà molto più gustosa con il latte. Coconut, caramello, cacao, cioè muoio buonissima e cioè deve essere proprio gustosa nel latte e nel latte caldo ovviamente. Questa mia collega ha iniziato a seguirmi anche su Instagram e adesso mi chiama Ecate, mi fa troppo ridere questa cosa, che in ufficio, anche in ufficio vengo chiamata Ecate e non Marta. Ovviamente non da tutti perché non tutti sanno cosa faccio sui social e che ho una vita anche sui social, cioè che sono una divinità. Però questa mia collega si è molto affezionata a me e infatti mi ha fatto anche il regalo di compleanno. Io l'ho regalato invece tempo fa in cristallo o in resina che l'ho fatto scegliere tra quelli che avevo. Poi affraffo dalla mia lista di Amazon, una cosa che prima era solamente una cosa tra virgolette superflua in una wishlist di Amazon, adesso è diventata fondamentale nella mia routine della vita, soprattutto di sera. E sono le cuffie, quelle fatte a fascetta, sono fatte così. Sono estremamente comode perché io mi mettevo queste cuffie qui a letto, ma sono giganti, sono scomodissime e poi se ti giri da un lato non riesci a stare straiata, quindi da un lato dovevo togliere la cuffia, quindi sentivo solo un orecchio, insomma scomode, veramente scomode. E da un creatore potresti dire, beh non ti puoi mettere quelle piccoline, ma dentro le orecchie mi danno fastidio, sono una delle cose più fastidie nel mondo, mi fanno proprio male. Ho cambiato tante forme, quelle proprio più vecchie forse mi facevano meno male, che erano quelle piatte, adesso le fanno con quella cosa di silicone che ti resta incastrata nell'orecchia, nell'orecchio. Però sì, probabilmente sono fatte apposta in modo ergonomico o anche per amplificare il suono, non lo so, ma a me danno fastidio e in molti casi mi provocano anche dolore. E quindi questa è la soluzione migliore, perché sono appunto comode e morbide e hanno questa parte qui con la cuffietta che si posiziona perfettamente sopra l'orecchio. E qui hanno i tasti per l'accensione e lo spegnimento, che collego tramite bluetooth sul telefono o sul tablet o sull'apparecchio con la quale voglio guardarmi video smr, guardarmi film, guardarmi qualsiasi cosa. Comodamente a letto e così sento solo il suono e non disturbo nessuno. E la trovo la cosa migliore del mondo. Poi dietro hanno una specie di taschina dove c'è il caricabatterie che ha poi l'USB. però non si sente perché dopo va, torna all'interno della faccetta ed è la cosa veramente più, mi sono innamorata, le uso tantissimo, durano anche tanto la carica, quindi sono molto contenta. E casomai siccome probabilmente, magari non le conoscevi, ti lascio il link della wishlist di dove fraffole acquistate per me della mia wishlist, dalla mia wishlist. Vabbè, spero che tu abbia capito e perché veramente io adesso non conosco questo venditore, questo prodotto, non è che è un placement, cioè non sto pubblicizzando ma mi trovo davvero da Dio e quando mi piace una cosa mi piacerebbe che anche la mia creatura ne potesse godere di questa cosa che per me è veramente diventata indispensabile e essendo l'accessità da me sta normalmente, non mi stringe nemmeno troppo larga, è proprio perfetto per la mia testa e quindi, cioè, ecco, unica pecca è che non ho idea di come potrò andarla a lavare o se potrò lavarla senza distruggere tutto perché allora, diciamo che non si può smontare, quindi probabilmente perché in realtà questa era o si può smontare, forse sì che riesco, sarebbe procidata anche per lo sport ma se ci sudi dentro e non la puoi pulire, che schifo, sai che puzza però in realtà forse si può smontare perché qua c'è quello dei tastini che ha qua un foro perché è cucito tutto intorno, però qua c'è un foro dove passano i fili e forse, forse anche queste si possono perché pensavo fossero tutte cucite in realtà la cucitura qua non c'è quindi forse, forse riesco a con tanta pazienza, senza romperle provare a far uscire tutti i fili, tutto il marchigegno che c'è e farlo uscire dalla taschina dove spucca fuori il cavo per ricaricarlo ci devo provare un giorno adesso non puzza, sono ancora, cioè non ci ho sudato su perché ci praticamente mi addormento con quelle lì addosso però dopo un tot me ne accorgo e lo tolgo, lo spengo perché faccio, tengo schiacciato così lo si spegne e lo tolgo però appunto prima o poi dovrò lavarle perché fa un po' schifo la cosa cioè usare una cosa di stoffa e non poterla lavare insomma quindi penso che però forse potrei farcela smontare senza rompere tutto e lavarle comunque poi la mia migliore amica mi ha regalato questo portafoglie che appena l'ho visto ho detto ma sono io e contemporaneamente lei quando me la cioè io ho detto così contemporaneamente per caso lei ha detto sei tu e quindi cioè sono io effettivamente cioè mi ha somigliato tipo tantissimo soprattutto in quel periodo in cui mi disegnavo la luna sulla fronte quindi sono io troppo è super morbido e appunto ci sono io poi sulla cerniera sulla zip c'è questa luna questa luna questo l'ho svuotato per fartelo vedere ma lo sto usando ha molte tasche dentro ha anche la cerniera per le monettine cosa che nell'altro non avevo nell'altro portafogli che stavo usando e quindi avevo un portamonete a parte perché avevo un portamonete nell'altro solo con un bottoncino e le cose cazzevano e le monettine uscivano me le trovavo tutte sparse in borsa e quindi invece quella cerniera per le monettine molto meglio per me per la mia esperienza personale e poi anche le carte le portacarte bancomat postpay cose varie ecco non ho idea di dove l'abbia acquistata quindi mi dispiace non ho un link questa volta e quindi lavoro solo io non puoi copiarmelo questo sto scherzando e poi invece finalmente se mi segui su IG se mi segui su Instagram lo sai che ho rotto le palle a tutti per questa aspirapolvere d'auto che tra l'altro ho visto nei volantini venderanno anche a Lidl prossimamente quindi mi hanno ascoltata però ormai ce l'ho già e quindi non la comprerò lì la portata qui ma solitamente la tengo in auto è piccolissima però io ho una smart quindi è perfetta questa qui l'unica cosa è che quando la ricarico mi dà sempre una luce rossa e quindi non capisco mai quando è carica perché appunto mi aspettavo una luce verde perché mi dicesse tipo eccomi sono pronta usami invece la ricarichi così all'infinito l'unica cosa che non mi piace per il resto tutto approvato e quella lì era nella lista wishlist di Amazon poi sempre nella wishlist questo sempre per l'auto perché come pensai ora l'auto è praticamente la mia casa il mio secondo braccio il mio terzo braccio non suona male io vivo per quell'auto sto scassando però una cosa tutta mia che mi sono comprata con i miei soldi e che uso ogni giorno costantemente e quindi io lo sai che mi faccio le mie manie sulle cose soprattutto se ci tengo tanto me la voglio tenere bene quindi me la voglio tenere bella pulita poi ho acquistato altre cose che però mi vedrai in un hall di Sheen prossimamente e ho comprato delle cose per l'auto per ottimizzare gli spazi nella mia auto ho già detto anche troppo allora la mia amica 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 questa che poi andremo con un video a mettere insieme insieme anche a tutti gli altri accessori che ho acquistato metteremo metteremo anche insieme insieme in un video ti mostrerò per la persona soprattutto che me l'ha regalato quindi ci tenevo come se fossimo lì insieme allora all'interno ci sono questi dischetti gratossi a pannolleggi una cosa del genere una cosa che assorbe comunque colorati che vanno imbevuti di una di un'essenza profumata e poi vanno all'interno di questo che si apre si chiude sembra una di quelle di quei giuntoli di una volta dove metti le foto ecco vanno ovviamente l'esempio lo farò di nuovo con quello verde perché metterò quello sicuramente per primo io ho scelto questo disegno che è l'albero della vita e anche perché la passione degli alberi per me è fantastica cioè io amo gli alberi e poi c'è questa cosa calamitata che va che permette di incastrare tutto questo marchigegno all'auto dove esce l'aria e quindi poi uscendo l'aria si filtra qui e esce profumata perché uscirà il profumo dell'essenza che abbiamo scelto che sarà quella del cocco fondamentalmente ma se trovo altre essenze fantastiche andrò a inserirlo però per adesso userò l'essenza al cocco ma poi lo faremo insieme in un video smr dove farò pimp my smart non so creatura se tempo fa guardavi quel programma pimp my car lo faremo no non credo che ho la pancia che è pronta non penso che di avere così tanti oggetti per pimparla però insieme pian piano ci aggiungeremo sempre qualcosa di nuovo verrà fichissimo comunque veramente ho comprato delle cose che secondo me direi perché non ci ho pensato anch'io perché ancora non l'ho comprato con la donazione di warrior and prince tra l'altro quindi saranno i suoi regali di compleanno mostrati come gulla che ho scelto io di shin e sempre grazie a warrior and prince che ha deciso di fare delle donazioni per il canale io ho deciso di spenderle per cose utili anche per il canale quindi lì arriverà prossimamente una mystery box di cibo americano e anche lì ne vedremo delle belle anche perché le assaggerò in un video poi forse forse vediamo chi altro potrà assaggiarlo come special guest però intanto le assaggio io poi come ultimo regalo ti mostro quello che mi ha fatto mia sorella che era comunque nella mia wishlist però lei non l'ha comprato dalla wishlist è andata in un negozio ed è finalmente ce l'ho anch'io anche se poi ti devo chiedere dei consigli riguardo ovviamente la palalga l'alga palla marimo marimo non ho ancora capito la pronuncia non la capirò mai perché ognuno in un video viene pronunciata in modo diverso ma è proprio lei si vede adesso si perché con lo sfondo nero non si vedeva niente e ho appena cambiato l'acqua perché va cambiata ogni 15 giorni e gliel'ho cambiata perché sembrava un po' spurca però non ho capito perché la mia sembra finta ti spiego la mia è a parte che è gigante rispetto a quelle che ho visto normalmente nei video che sono così la mia è tipo così poi è super pelosa ha il pelo lungo diciamo anche se non è pelo perché è un'alga quindi vabbè e però cioè è molto cioè è molto capelluta e poi si sta tipo sfaldando cioè allora io sono andata a informarmi e ho letto che i casi sono due o si sta riproducendo che ok non ha non è né maschio né femmina non ha una riproduzione cioè fa la fotosintesi poi si diciamo si staccano dei pezzi da essa e così si tra virgolette riproduce ecco e potrebbe anche essere perché è molto cicciona e quindi potrebbe sfaldarsi creare un altro pezzettino che nei video dicono di staccarlo leggermente con le mani io non stacco un bel niente perché ho paura di rovinarla quindi la lascerò così se proprio vuole sdoppiarsi lei lo farà da sola oppure potrebbe essere anche che è stata tenuta male e quindi magari non ha preso abbastanza non è stata cambiata l'acqua non è stata cambiata l'acqua spesso quanto avrebbe dovuto oppure non ha visto la luce non è stata la luce quindi non ha fatto la fotosintesi quelle cose lì e potrebbe anche essere perché era in un negozio non so se cambiano tutti i mari l'acqua ogni 15 giorni non so dove la tenevano e quindi non so appunto e poi ancora non ho capito se è vero o finta perché ho sempre questo dubbio perché è troppo bella quella dei video che vedo io quelli dei video hanno tutti il pelo lasciami passami il termine il pelo curto la mia c'è è super capelluta e e quindi appunto sembra finta perché è troppo bella però ho pensato che anche poi non è proprio tonda c'è questa forma strana e fa già riflesso ha questa forma strana vedi che è molto capelluta cioè capellona e non è tonda e poi si sta tipo sfaldando non lo so comunque l'ho appena cambiato l'acqua e io la lascio lì io la cambio solo l'acqua ogni 15 giorni come dicono di fare non la tocco la lascio lì alla luce ma non diretta del sole è su un tavolo in soggiorno ma ancora non se ne accorta della sua esistenza quindi non cercherà di uccidere la come tenta di uccidere qualsiasi cosa io abbia perché lei è gelosa vediamo se tu hai qualche idea qualche consiglia qualche cosa avrei voluto per testare se è vera provare con la cosa dell'acqua gasata però so che non gli fa molto bene quindi non voglio stressarla perché se sta poi è vera e lei la stava anche stressando non voglio cioè capito io mi preoccupo per la mia alga palla che tra l'altro a cui ho dato un nome bellissimo si chiama testa di cocco perché mi ricorda quel personaggio di e Ned scuola di sopravvivenza e comunque mi piaceva un sacco quella serie cos'era del se era 2004 non mi ricordo comunque quella serie era molto carina per me c'era sto personaggio testa di cocco che mi è rimasto impresso che mi è ripasso impresso e quindi ho detto ora chiamerò testa di cocco non in senso dispreciativo ma proprio per perché stimolavo quel personaggio che era molto particolare era un personaggio strano e quindi boh io spero che testa di cocco sia una reale alga e non una pallina di plastica però ho pensato se fosse plastica immessa in un liquido per tanto tanto tempo non dovrebbe tipo marcire o rovinarsi giusto dovrebbe marcire no dentro l'acqua una roba di plastica non lo so quindi spero che sia una vera alga palla e che non stia male ma stia per riprodursi partorire quello che è sdoppiarsi e però io le voglio già bene le sto dietro come una figlia e quindi quasi al pari di Sam perché bisogna stare attenti che lei è gelosa e quindi niente speriamo che sopravviva e poi ti darò aggiornata che dura se ti interessa l'ultimo dei doni è questa tastiera se riesco a farti vedere perché è attaccata al computer adesso la vedi così sembra una tastiera però è tutta led farebbe tipo volendo anche l'arcobaleno ma io l'ho impostata che stia sempre verde come il computer tra l'altro che l'ho impostata che hai letto sempre tutti verdi questi sono i doni che ho ricevuto pochi ma buoni meglio che niente sono fantastici io ringrazio tutte le persone che mi hanno donato dalla wishlist o anche mi hanno regalato di pugno proprio insomma di loro idea questi oggetti li userò tantissimo e io ti saluto creatura lascia un bel like iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina mi raccomando mi raccomando ora ti lascio andare a dormire ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti